scommetto che i tortellini al ragù gratinati al forno non li avete mai fatti oppure solo pochi di voi oggi li ho fatti per la prima volta e vi dico la verità sono eccezionali iniziamo e allora per prima cosa facciamo il ragù quindi olio extravergine di olive in padella mettiamo metà macinato di vitello metà macinato di maiale e a fiamma alta facciamo cuocere per 3-4 minuti bene a questo punto sfumiamo con il vino bianco e lo facciamo evaporare lasciando sempre a fiamma alta che vorranno 2-3 minuti evaporato il vino mettiamo la carota un po' di sedano un po' di cipolla mettiamo il sale e facciamo cuocere per altri 2-3 minuti benissimo a questo punto mettiamo la salsa di pomodoro copriamo con il coperchio a soffietto cioè così e lasciamo cuocere per 45 minuti anche un'oretta a fiamma medio bassa passate un'ora visto che l'acqua bolle la salo e metto i tortellini a cuocere soltanto per 3 minuti questi sono tortellini secchi bene una volta scolati i tortellini mettiamo sul fondo una pirofila un po' di ragù mettiamo una metà dei tortellini mescoliamo mettiamo il parmigiano il resto dei tortellini ancora ragù ok mettiamo ancora un po' di parmigiano mescoliamo ancora ed una volta sistemato il tutto copriamo con una generosa spolverata di parmigiano ok un goccio d'olio ed ora mettiamo in forno statico già caldo e facciamo cuocere per 30 minuti a 180 gradi ed eccoli qui appena tolti dal forno mamma mia che profumo mamma mia che profumo guardate qua speriamo di non scottarmi mamma mia che sono mamma mia io ve li straconsiglio non vi ho detto prima che i tortellini sono al prosciutto ma potete fare quelle che volete salateli e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un gran bel like condividetelo se siete su youtube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su segui se siete su facebook io vi saluto e vi auguro buon appetito